incendio nella notte a l'overe in via paia la storica villa gregorini dal nome dell'industria siderurgica sorta dell'ottocento al confine con castro due performance teatrali a gandino e ad verdesio in luoghi speciali della valle seriana per riscoprire due grandi scrittori e il loro rapporto con la montagna sabato 17 settembre lo sci club 13 organizza nell'ampito dei festeggiamenti per i suoi 70 anni la gara clusone notturna verticale il percorso sarà segnalato da led e prevede la partenza dal centro sportivo di clusone e arrivo a rifugio san lucio telespettatori e telespettatrici di antena 2 tv buonasera e ben ritrovati una nuova edizione del nostro telegiornale in primo piano come ogni sera la cronaca e i carabinieri hanno fermato con alla guida dell'auto del padre un ragazzo peccato che non avesse mai conseguito la patente e si fosse messo in macchina all'insaputa del genitore un ragazzo di 20 anni è stato così multato per oltre 5 mila euro è successo questa mattina intorno alle 5 dove i carabinieri del radiomobile della compagnia di clusone durante un controllo della circolazione stradale a endine gaiano hanno fermato il ragazzo che risiede a casatta il ventenne procedeva infatti con un certo fare incerto alla guida i carabinieri sono insospettiti e lo hanno seguito e in fine fermato è emerso che il ragazzo aveva sottratto le chiavi dell'auto un fuoristrada mentre il padre stava dormendo per andare da un'amica all'overe il giover era inoltre senza patente non avendola mai conseguita chiarita la situazione alla ragazza è stata combinata una sanzione amministrativa di 5.100 euro e il veicolo restituito chiaramente al genitore andiamo all'overe perché erano da poco passate le 4 di notte quando alcuni automobilisti di passaggio all'overe hanno visto le fiamme avvolgere in via paglia la storica villa gregorini dal nome dell'industria siderurgica sorta nell'ottocento alla confine con castro sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di l'overe la cui caserma si trova a poche centinaia di metri dalla villa l'incendio si è sviluppato in una delle stanze del secondo piano rivolte verso il lago per le aspirazioni di spegnimento che sono andate avanti fino a metà mattinata si sono uniti anche i vigili del fuoco di gazzaniga e di clusone l'intervento ha richiesto l'utilizzo di un'autoscala perché la villa è inagibile e al suo interno non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza l'edificio che appartiene a una società immobiliare è abbandonato da anni inutilizzato e vandalizzato e è soprattutto rifugio occasionale di sbandati in passato le forze dell'ordine avevano effettuato qualche sopralluogo dopo aver ricevuto segnalazioni di attività illecite come lo spaccio di droga in base alle prime ricostruzioni il rogo si è propagato all'interno della villa come conferma il fatto che la vegetazione all'esterno non è stata intaccata probabilmente qualcuno ha acceso un fuoco per cucinare o per scaldarsi oppure ed è l'altra ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti qualcuno potrebbe aver deliberatamente dato fuoco alla struttura per la quale si prevede un futuro turizzo residentiale e per attività ricettive cambiamo pagina dall'over andiamo a colere perché questa mattina come potete invece vedere da queste in immagine postate sul profilo ufficiale social proprio degli impianti di sci di colere è stata consegnata la nuova vovia che è stata posizionata in località carbonera nella zona del parcheggio e collegherà appunto la località carbonera a Malga Polzone ora si attende solo l'ok per l'installazione ma sicuramente queste immagini fanno ben sperare per la nuova stagione ci rispostiamo nuovamente all'over e ci rispostiamo nuovamente su quello che è l'Alto Lago di Zeo perché nel weekend sabato e domenica torna la ventesima edizione del Memorial Stoppani ieri una piccola anticipazione di quelle che sono state le prove delle frecce tricolore che domenica alle 15 saranno un po' l'evento clou di questa due giorni oggi siamo stati sul Lago di Zeo per rifare il punto su quello che è il programma di questa due giorni dedicata alla festa del volo, vediamo il servizio non solo frecce tricolori anche se ovviamente è il momento più entusiasmante della manifestazione sorvolo semplice quindi avremo un passaggio verso nord, verso la valle ad alta velocità ed un ritorno con una virata Schneider con i fumi tricolore ino nazionale e sfido chiunque a non emozionarsi in quel momento subito dopo grande spettacolo di acrobazia aerea civile quindi sette momenti di acrobazia fantastica con personaggi veramente numeri uno in Italia tra l'altro avremo Andrea Pesenato recentemente riconfermatosi campione italiano di acrobazia aerea che farà uno spettacolo mozzafiato e unico in Europa lo spettacolo del Boeing Stearman con una coppia di coniugi svizzeri il marito pilota e la donna non solo è copilota ma uscirà sull'ala infatti lo spettacolo si chiama wing walker camminando sull'ala e uscirà sull'ala come in quei grandi spettacoli che si vedevano nei film americani degli anni 30 e 40 per cui una chicca veramente imperdibile anche perché sono gli unici in Europa a fare questo spettacolo non solo questo ma anche tanti convegni, convegni importanti sia all'Overe e uno soprattutto anche a Costa Volpino assolutamente, sull'Overe all'Accademia Tadini sabato pomeriggio il convegno ha la presenza e sarà anche relatore dell'Assessore della Cultura di Regione Lombardia Galli e il convegno d'Annunzio Stoppani un'amicizia volante questo personaggio incredibile Gabriele D'Annunzio ha avuto una profonda amicizia con Mario Stoppani e durante il convegno verrà presentata una cosa in anteprima assoluta per cui vi invito a partecipare, non ve la svelo ovviamente su Costa Volpini invece la sera ci sarà l'avvocato dell'Agenzia Spaziale Europea che parlerà di diritto internazionale dello spazio un argomento sicuramente di nicchia ma molto molto interessante tutto il programma lo trovate su www.memorialstoppani.it ci sarà la possibilità anche di volare, voli in elicottero da Pisogne il Festival degli Aquironi per tutti i bambini stupendo e lì si vola con l'immaginazione ci sarà poi la mongolfiera con volo vincolato a Costa Volpino una piccola mongolfiera del museo Volandia, il più grande museo italiano del volo presente davanti a Altadini e a Lovere e i voli in idrovolante con la scuola di volo del mitico ingegnere Nando Groppo nella figura di Alessandro Di Piano, pilota idroistruttore che effettuerà dei voli in idrovolante i voli sono prenotabili per tutte le discipline sempre sul sito ci sono anche delle disposizioni per quanto riguarda l'arrivo proprio qui sull'alto lago di Zeo ci sono delle chiusure al traffico e soprattutto Lovere diventerà completamente pedonale domenica Assolutamente sì, i recenti incontri sia in prefettura che in questura hanno delineato la situazione per cui si arriva da Bergamo su Lovere, Costa Volpino e Pisogne fino alle 11 l'uscita dei piani con Lovere sarà aperta dopo le 11 fino alle 18 sarà chiusa sia quella sia quella di Costa Volpino Sud di località Bersaglio per cui l'unica uscita attiva sarà quella di Costa Volpino Nord tra le 11 e le 18 il lungolago di Lovere verrà pedonalizzato interamente dalle 13.30 alle 17.30 chiuso completamente al traffico completamente pedonale per cui stupendo e vi ricordo comunque che lo spettacolo si vede da tutti e tre i comuni Lovere, Costa Volpino e Pisogne inoltre molte persone mi telefono per sapere dove andare in montagna in montagna si può salire sulla vetta del Trentapassi vedendo la pattuglia da sopra che è una situazione veramente inconsueta a Grignaghe, sicuramente palcoscenico naturale a Esmate oppure su tutta la costa di Branico, Qualino, Ceratello in comune di Costa Volpino oppure a San Vigilio dove la pattuglia arriverà frontalmente per cui veramente i fotografi si scateneranno coordinati da Stella che è il nostro fotografo di Lovere che organizza il team fotografi e dopo vi daremo tutto per far vedere a tutti quelli che non sono potuti a vedere le bellissime immagini non mi resta che augurarvi un buon volo a questo punto bene e vi ricordo che il buon volo inizierà sabato mattina addirittura a Marone poiché inaugureremo l'idrosuperficie di Marone con un bel convegno parliamo ancora di eventi e soprattutto di due performance teatrali in luoghi speciali della Valle Seriana per riscoprire due grandi scrittori e il loro rapporto con la montagna ripartono domenica gli appuntamenti di ritroviamoci in Valle Seriana la scoperta dei luoghi perduti vediamo il servizio realizzato da Nicola Andreoletti in Valle Seriana due appuntamenti dedicati a due scrittori appassionati di montagna ma appuntamenti anche per scoprire il territorio scoprire luoghi poco conosciuti sì esatto nell'ambito del finanziamento ottenuto dalla comunità montana Valle Seriana insieme ad altri partner e alcuni comuni a valere sul bando Lombardia Attrattiva sono previste alcune iniziative di riscoperta di alcuni luoghi che sono un po' fuori dalle normali visite dai normali itinerari turistici in modo particolare per favorire la scoperta di questi luoghi a brevissimo saranno installati proprio dei sentieri letterari dedicati a importanti autori appassionati alla montagna ma non solo appassionati ai paesaggi della nostra Italia e per scoprire ancora di più questi percorsi sono previsti due spettacoli teatrali il primo spettacolo teatrale a Gandino alla baita del Monte Alto dedicato a Mario Rigoni Sterna proprio questa domenica 11 settembre alle ore 11 con una replica poi alle ore 14 mentre sabato 17 settembre a Cacciamali di Ardesio proprio alla chiesa di Cacciamali alle ore 15 del pomeriggio ci sarà uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di Dino Buzzati sono due luoghi che non sono stati scelti casualmente ma sono proprio i punti di partenza o i punti di arrivo dei sentieri letterari che poi saranno disponibili a tutti i turisti ma anche a coloro i quali vivono già la Val Seriana per essere scoperti e per essere raggiunti il progetto rientra appunto all'interno del bando Lombardia Attrattiva presentato dalla comunità montana Val Seriana insieme a Promoserio e ai comuni coinvolti e la direzione artistica degli eventi è affidata al teatro minimo di Umberto Zanoletti Che cosa sono? Come sono fatti i sentieri letterari? Nell'ambito di questo progetto sono stati selezionati quattro sentieri già esistenti uno a Dardesio e uno a Gandino appunto dedicati rispettivamente a Dino Buzzati e a Mario Rigoni Sterna e poi ci saranno altri due percorsi uno a Clusone e uno a Onore questi percorsi appunto sono dei sentieri solitamente di facile percorrenza già presenti sul nostro territorio e li abbiamo resi dei sentieri letterari proprio perché saranno disseminati in ognuno di questi sentieri nove diverse tappe nove diversi punti dove si potranno leggere delle citazioni dei passi di alcuni libri alcune opere di questi importantissimi autori in modo particolare passi e opere legati al tema della montagna al tema del cammino al tema del paesaggio è un modo diverso per esplorare il nostro bellissimo territorio e per farlo ascoltando o leggendo la voce di grandi autori della storia della letteratura italiana che non hanno magari descritto nello specifico il nostro paesaggio ma dei paesaggi molto simili che quindi possono essere facilmente ripresi anche sul nostro territorio è un modo diverso per raccontare il nostro territorio ma altrettanto bello per poterlo scoprire E ora ci spostiamo qui a Clusone nella località Baradella perché inizia nei prossimi giorni il Settenario dell'Addolorata il Dio alle celebrazioni sarà anche in musica domenica alla Chiesa del Paradiso è infatti in programma un concerto la settimana successiva arriverà l'Arcipescovo di Milano vediamo il servizio A Clusone si avvicina il Settenario della Madonna Addolorata del Paradiso come si appresta la comunità a vivere questi momenti? Nel mese di settembre la festa più attesa è sicuramente la festa della Madonna Addolorata che per i clusonesi è la festa più cara preceduta appunto dal Settenario che andremo a iniziare domenica prossima l'undici con il momento solenne dell'apertura e poi alla sera con un concerto il concerto Appu una serie che fa parte di una serie di concerti dell'Addolorata che si terrà alle 20.45 qui nel Santuario del Paradiso e poi si svilupperà durante tutta la settimana soprattutto alla sera con la Messa e con il canto tradizionale dello Sabbath Matter molto commovente e molto suggestivo per concludersi poi la domenica 18 quando sarà il centro e il cuore di tutta la festa soprattutto alla sera quando avremo tra noi l'Arcivesco di Milano Monsignor Mario Delpini che celebrerà la Messa alle 18 e concluderà così tutto il Settenario e tutta la festa è un'occasione direi importante per Clusone ma anche per tante altre comunità del nostro territorio Madonna addolorata che ci presenta il suo figlio sulle ginocchia morto sulla croce Madonna addolorata rappresenta una devozione molto sentita qui nella nostra Chiesa del Paradiso abbiamo un affresco molto bello e antico di fronte al quale tantissime persone si fermano sostano in preghiera per chiedere una grazia per ringraziare ecco direi che è una devozione veramente importante e allora questa occasione diventi per tutta la nostra comunità un momento di preghiera all'inizio anche del nuovo anno pastorale che andremo a iniziare alla fine di settembre invocando su di noi sulle nostre famiglie sulle nostre comunità la protezione di Maria perché sia la nostra guida per farci incontrare e amare ogni giorno di più il suo figlio Gesù invito quindi per tutti a vivere in maniera intensa queste celebrazioni che diventano una grande opportunità non solo per i clusonesi ma direi anche per tante altre persone del nostro territorio devote di questo santuario rimaniamo a clusone perché lo sciclub 13 proprio di clusone organizza per sabato 17 settembre nell'ambito dei festeggiamenti proprio dei suoi 70 anni la gara clusone notturna vertical il percorso sarà segnalato con dei led prevede partenza dal centro sportivo di clusone e arrivo al rifugio San Lucio prevista anche una mini gara dedicata ai bambini e un'altra per i adolescenti vediamo il servizio l'idea è nata l'anno scorso dopo che la società Enel ha fatto pulizia della linea però non pulendo quello che han tagliato si è riempito un po' tutto di rovi, di alberi e quindi ho pensato di tentare di pulire almeno un metro e mezzo, due per capire se si riusciva a tirar fuori un sentiero e raggiungere il più velocemente possibile il rifugio San Lucio e questo era l'anno scorso quest'anno invece nell'occasione appunto dei 70 anni del nostro Sciclub abbiamo deciso come evento di far gareggiare i ragazzi un'edizione zero praticamente vediamo come funzionerà sia a livello di categorie che come tracciato e come organizzazione perché lo Sciclub come sai organizza gare da sci ma non a piedi e quindi ci siamo trovati tra i tre settori abbiamo deciso di organizzare questa gara sarà il 17 settembre in notturna quindi sarà obbligatorio il frontalino logicamente però tutto il trecciato che poi è quello che vedrai che vedi qua dietro sarà diciamo segnalato con dei led così chi da Clusone riesce a per un attimo dare un'occhiata alla zona di San Lucio vedrà questa linea illuminata mi piace questa edizione zero insomma la partenza di questa di questa gara di questa manifestazione che è aperta a tutti sia dei più giovani sia ai più esperti a quelli che vanno e camminano fanno gli skyrunner ma anche immagino alla gente normale che vuole mettersi in gioco con questa pendenza che mi dicevi che a tratti raggiunge anche il 60% è vero diciamo che è adatta un po' anche agli sci alpinisti noi siamo un po' abituati sul ripido e potrebbe essere un'idea di allenamento anche per loro la partenza sì dei senior dei grandi verrà adatta al centro sportivo in occasione della giornata dello sport di Clusone un 500 metri di pianura naturalmente il via è dato in linea e così almeno si riesce a sgranare un po' il gruppetto e poi passando qui al centro del fondo saliranno fino al rifugio Salluccio poi ci sono anche i piccoli dagli 8 ai 12 anni e partiranno nella zona del Roccolo Zuccone anche loro faranno circa 400-500 metri in linea di slivello sarà 120 metri una cosa così e poi su tutti insieme mangeremo una pasta al rifugio se è bel tempo naturalmente sul terrazzo e così poi premiazioni premiazioni un po' per tutti perché ci sarà un pacco gara per tutti e poi i primi tre delle varie categorie come fare ad iscriversi a questa gara? per iscriversi abbiamo messo la mail dello Sciclub 13 e il pagamento verrà poi effettuato a ritiro pettorali per chi vuole iscriversi si consiglia di farlo non all'ultimo momento per inserire poi nel computer per avere poi un programmino per essere poi veloci a fare la classifica per quelli che non sono allenati è un percorso consigliato una gara consigliata? per i pochi allenati forse no perché essendo molto ripida sai se non hai potenza nelle gambe potrebbe essere un problema però qui non ci sono dei cancelli di chiusura quindi se uno o chi ha provato ad esempio Giovanni Zamboni l'ha provata completa e rimasto sotto i 20 minuti per pochi secondi gli ultimi possono arrivare anche dopo un'ora non ci sono problemi consiglio di non rientrare da dove è salita la gara perché potrebbe essere potrebbe diventare scivolosa ci sono vari sentieri un po' più comodi o se no c'è anche la strada asfaltata ci sarà il trasporto materiali di ricambio col pulmino che gli atleti troveranno su alla saluccia ed ora parliamo di ciclismo paralimpico perché Claudia Cretti la 26enne di Costa Volpino e in questa settimana ha conquistato pensate un po' addirittura 4 titoli italiani ed ora sogna il mondiale quest'anno pensavo fosse partito male però ero mentalizzata per recuperare gli obiettivi importanti i tricolori e ad Avezzano ho vinto sabato la crono una vittoria inaspettata e invece domenica sono andata in fuga per vincere la strada quindi ero contentissima e la settimana successiva c'erano i campionati italiani nel velodromo che non li facevo dalla mia caduta quindi 5 anni in assenza delle gare in pista però a Firenze nel velodromo di Enzo Sacchi ho provato i 500 metri partenza da ferma e ho vinto nel pomeriggio ho fatto l'inseguimento una disciplina mai fatta in precedenza però ho spinto al massimo anche quelli della Nazionale contavano i secondi guarda che è aumentato 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 di velocità e ho vinto anche l'inseguimento individuale quindi quest'anno è iniziato benissimo con 4 medaglie d'oro e sono contenta anche facendomi vedere dalla Nazionale che potrebbe portarmi ai mondiali nel velodromo a Parigi a ottobre quindi insomma tanta soddisfazione in tutte le discipline del ciclismo quindi insomma non hai rivali in questo momento esatto in Italia diciamo che sono la più forte ho tutto in inizio perché la mia testa sta pensando alle Olimpiadi di Parigi vabbè che sono piccola o grande ho 26 anni non lo so ancora perché nel paraciclismo è tutto un nuovo mondo però è un punto di inizio per migliorare in ogni disciplina adesso il ritiro con la Nazionale sì andiamo in ritiro a Montichiari vicino a casa nel velodromo in prospettiva dei mondiali in pista a Parigi in ottobre e anche questo è tutto nuovo perché non li faccio da quando forse ero io in Nores però bisogna metterci la testa e il cuore e lì arriverà qualsiasi cosa c'è qualche aspettativa? beh spero di partecipare e di far mostrare al mondo la maglia tricolore dell'Italia eh sì perché indosserai la maglia tricolore che hai portato quest'oggi anche qui per la nostra intervista è un grande orgoglio e soprattutto anche un peso eh quando si porta poi questa questa maglia anche durante le gare nazionali sì però è importante far scoprire il nostro paese in tutto il mondo perché è conosciuto da ogni parte siamo il paese più visto dall'ONU nel mondo e quindi voglio mostrarlo anche nel ciclismo che valiamo qualcosa gli allenamenti continuano qua nel tuo alto lago di Zeo tra Lover e Costa Volpino insomma queste sono le zone migliori per allenarsi soprattutto anche in questa stagione sì il giro del lago è spettacolare e infatti consiglio a tutti i miei ehm compagni della nazionale di venire qua a allenarsi perché c'è ogni tipo di disciplina da eh fare sia salite discese spettacoli quindi è il posto migliore in bocca al lupo a Claudia ti seguiremo ai mondiali dai in bocca al lupo crepi grazie a tutti è andato in scena il derby di Coppa Lombardia prima categoria tra città di Clusone e Rovetta purtroppo però la partita è stata sospesa alla fine del primo tempo per il danneggiamento ad un palo delle illuminazioni ci fa il punto il nostro Arnaldo Guadagni si è giocato o meglio si è cominciato a giocare a suo over il primo turno di Coppa Lombardia seconda categoria si affrontavano città di Clusone e Rovetta di fronte a tribune semipiene e visto il derby ci si aspettavano emozioni non sono mancate nei primi 45 minuti tanto quanto è durata la partita visto la sospensione di cui citeremo nel finale 0-1 per i Rovetta al termine del primo tempo dove il Clusone si è dimostrato un po' lungo e impacciato mentre la squadra di Trussardi compatta e veloce ha dimostrato di essere più avanti nella condizione ci ha provato il Rovetta a chiamare in causa a Rizzi anche prima del gol che arriva sul calcio piazzato di Marco Trussardi trovando il numero 1 del Clusone sorpreso sul suo palo la reazione delle città di Clusone non crea grosse apprezzioni il portiere Morandi che però si deve superare sul finire della prima frazione su un colpo di testa da calcio ad angolo poi sorpresa salta l'illuminazione si aspettano i canonici 45 minuti ma un palo di fari non si accende e il direttore di gara deve mettere il triplice fischio finale la gente sulle tribune aspetta con speranza ma se ne deve andare praticamente delusa ora il risultato è sul giudice praticamente in mano alla decisione del giudice arbitrale visto il referto del direttore di gara ma lo 0 a 3 pare una possibilità non sicuramente remota e siamo giunti in chiusura anche del nostro telegiornale io vado a leggervi quelli che sono i programmi in onda sulla nostra emittente proprio questa sera alle 20 videomotori alle 20 e 30 appuntamento con target alle 21 e 50 in viaggio alle 22 e 15 Italia economia alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23 e 15 pianeta salute itg alle 23 e 45 sport e tempo libero alla mezzanotte e 30 la terza edizione del nostro telegiornale veniamo all'almanacco perché domani sarà sabato 10 settembre il sole sorge alle 6 e 48 e tramonta alle 19 e 47 il culmine è alle 13 e 17 la turata del giorno è di 12 ore e 59 minuti la luna sorge alle 20 e 08 e tramonta alle 7 e 48 la luna è piena la chiesa ricorda San Pulcheria e anche per questa sera il nostro telegiornale finisce qui io vi ricordo che al termine potrete seguire le nostre previsioni del tempo e la rubrica erbe e salute potete rimanere in contatto con la nostra redazione mandando una mail a redazione chiocciolantenna2.it oppure per le ultime informazioni andate sul nostro sito myvalley.it grazie per averci seguito e buona serata grazie per aver guardato